Prendi tutto! Mia 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 mia! No, ho sbagliato! Lasciate a Corvo! Io 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 io! E magari no, anche a me! Grazie! C'è un fungo qui, questo qua dalle robe! L'hai visto? Prendi, prendi Corvo! Dai, vieni qui! Cosa c'è? Ah, una banana! Si rompevate il fungo c'era un'altra, no? Ma il mio pipistrello non ho capito... No, stanna i nemici che... Ogni tanto! Hai presente... Eh, lo so, ma... lo fa! Ma che brutte farci da culo! Stanno cofiando con... Con la carrozza, esatto! Eh sì, siamo un po' in mezzo! Risolto! Ma guarda, guarda! Mark? Non c'è più! È morto! È morto Mark! È morto! È tornato in lontananza, è tornato! Eccomi! Ma questo? Ah, è una... Eh, per andare avanti! Però ma, tipo, segui i templi... Maia, loro... Eh! Eh sì! Giro, 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 giro! Giro, giro! Ah, sono morto anch'io! Ragazzi! Amici! Pronto! Amici! Ma... vorrei morire! Ottimo! Grande immagini! Plastito! Andiamo andiamo! Ah! ho un petro, sicuramente non vedevo un capo prima eh eh, lo sapevo io ti spingo ma no no, mica ci può leggere il giornale così qua sto facendo un video comunque ragazzi se adesso avete problemi a a capire dove siete aspettate di arrivare al necromante ma hai detto al negro? eh eh, si l'ho detto eh, il quakmante aspettate di arrivare al quakmante no, non si può entrare andiamo al balcone, andiamo su balcone eh, andiamo di qua beh, è un ghiacciato di pia ma, vieni qua WAMBAKOMBO! 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 le banane, ma porca ha il testi si non lo sapevi di solpisco qua ci fanno le cose per bene, cosa pensi? penso di non aver mai colpito nessuno con la balena ma non si è passato addirittura 6 i gold guarda quanti sono svelto ah, adesso facciamo due picchia picchia io da lontano tiro le palle io tiro... ah, questi sono immuni al fuoco mi pare quindi mi sa che tu gli stai relativamente poco tu tiri le palle e io ti ripeto sono morto eh, ti rialzeremo dove sono? sono morto anch'io eh sì perchè qua solo esprit e mark si prendono la frutta e poi... eh ma ottano ma fai caccare come rianimatore eh no, sempre l'ho fatto e tra l'altro e tra l'altro dopo si prende la frutta è quello il problema ah, ecco bellissima calpesto non lo usano mai la spada laser nooo bastardo l'hai sblocata ma non può essere usata ancora sì eh ma io in realtà il primo livello posso non so ce l'ha tanto con noi ah no eeeh, è sprint wall il prossimo livello ma dai, sia canito contro di me perchè sono il più bello ce l'ha con me o per la... eh, un po' si no, ma di solito sono così i boss se la prendono con una persona e continuano a picchiarla questo non ce l'ha più ecco continuiamo corvo c'ha le wombo combo gelata così non capisce se ha freddo o ha caldo esatto continuiamo a brocopolo ho colpito con la balena ho colpito con la balena ho colpito con la balena abbiamo fatto addirittura una lascia a parte ahia mi tiro su feta 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 ma c'ho... quanto fogo capito ahia star lontanissimo dall'azione ahia anch'io sto, ho poca vita guarda che c'è la folle sta per te aia curatemi curatemi prima di finirlo ragazzi cazzo questo? no, non rompiamo non rompiamo non rompiamo mettiamoli su ah no vado non sto tirando su io non lo sto perché almeno mi pare non fosse finito non lo so vabbè dato tanti soldi non rompiamo non rompiamo non rompiamo sono già morto vaffanculo io vi ho rianimato mi avete già ucciso per prima ahia ma ho ma ho ah dai sono morto anche io io accetto al corpo vieni qua ma ahia no dai guarda guarda una notte che ci ha gabbato ha detto che non era lì dove farsi rianimare in realtà una balena ciao mark sono un po' i denti ma ahia ghiaccialo ghiaccialo sono morto sono morto sono morto ma vinco io tiè vedi che sono il più bello oh madonna questo si taglia è stato uno script non sono stato io